Si è tenuta stamani presso il Tribunale di Vasto l'udienza di convalida dell'arresto dei quattro ladri che hanno portato via la colonnina del denaro dal distributore Erg di Via Grascieta a San Salvo. Come ricostruito dagli uomini dell'arma, i quattro rumeni verso le tre, dopo essersi introdotti all'interno di un capannone di una ditta di materiali meccanici presente nella zona industriale, si sono impossessati di un mezzo pesante utilizzato per il trasporto di materiale meccanico e di una Fiat Panda di proprietà dell'azienda che al momento era sprovvista di targhe perché ancora da immatricolare. Subito dopo hanno raggiunto l'area di servizio Erg, ubicata poco distante, e utilizzando il mezzo pesante come ariete hanno scardinato dall'asfalto la colonnina contenente il denaro del distributore automatico di carburanti e l'hanno caricata a bordo. Allontanatisi dal luogo e percorsi circa un chilometro e mezzo di strada, si sono fermati per svuotare la cassaforte e una volta in possesso del denaro hanno abbandonato i mezzi per raggiungere a piedi l'autostrada A14 poco distante. L'allarme è scattato nell'area di servizio Erga, però subito è innescato l'intervento dei carabinieri, del nucleo operativo e radiomobile di Vasto e della stazione di San Salvo, che giunti sul posto in pochi istanti hanno ricostruito l'accaduto e si sono messi sulle tracce dei malviventi, riuscendo a individuarli nei pressi dell'autostrada. Alla vista dei carabinieri i malviventi in tutta fretta hanno tagliato la recinzione metallica che impedisce l'accesso diretto alla A14, hanno attraversato la corsia in direzione sud e una volta scavalcato il guardrail ed entrati nella corsia in direzione nord, sono saliti a bordo di una lancia libra nera che li attendeva con un complice alla guida. Nel frattempo una pattuglia della sottosezione di polizia stradale di Pescara Nord, sopraggiunta sul posto per dare manforte alle ricerche dei malviventi ed impedire che potessero utilizzare l'autostrada come via di fuga, ha intercettato immediatamente la lancia libra, inseguendola fino all'altezza della Val Vibrata, dove è riuscita a bloccarla. Durante la fuga in autostrada i rumeni hanno provato a disfarsi del bottino, costituito da circa 4.000 euro, ma è stato subito recuperato e da un'altra volante della polizia stradale sopraggiunta sul posto. Al momento del fermo uno dei cinque rumeni a bordo della lancia libra è riuscito a fuggire.